Ciao a tutti amici di Serialgamer Italia, oggi parte ufficialmente la nostra nuova avventura su YouTube, qui è Alessandro che parla e in questo video parleremo del nuovo titolo di Guerrilla Games Horizon Zero Dawn. La nuova esclusiva PlayStation 4 Horizon Zero Dawn è di sicuro una perla nel panorama videoludico degli ultimi anni, un'opera d'arte che basa la sua estenza sull'elegante compostenza e la grazia. Ambientato mille anni dopo il nostro tempo, il mondo come lo conosciamo noi non esiste più. Si è risvegliato in una pre-storia post-apocalittica, dove gli uomini sono riuniti in associazioni tribali e il concetto di natura e macchine si è mescolato quasi indissolubilmente. La trama di Horizon Zero Dawn cementerà nei panni di Aloy, una ragazza intenta a far luce sulla sua storia cercando di scoprire le sue origini. Questo la porterà a scoprire una realtà nuova, alquanto crudele, ed allargare i suoi orizzonti. Il gameplay del titolo di Guerrilla attrae la sua forza da molti generi diversi, un open world dove forti elementi GDR si uniscono a meccaniche prettamente survival. Il sistema di combattimento è quanto mai divertente e le variazioni di debolezze e resistenze dei nemici spinge ad imbracciare le nostre armi anche per il puro gusto della caccia. Le mappe sono varie, ampie e ariose, e muovendosi tra queste potremo notare una differenzazione della morfologia del territorio che stiamo esplorando. Un comparto grafico di ottima fattura e un framerate stabile sui 30 fps permettono al giocatore di godersi un'avventura sopraffina grazie al Stashima Engine, il motore grafico che rende possibile tutto ciò. Il comparto sonoro si dimostra all'altezza della maestosità del titolo. In i tribali melodie toccanti si intrecciano per dar vita a un'esperienza unica. In conclusione Horizon è un ottimo titolo maturo e in grado di rapire e trasportare il giocatore in un mondo emozionante che varia dalle fredde e ostili macchine agli accoglienti e sublimi scorci che ci propone. In sua impressione potete prendere nota dei nostri voti per questo titolo che spicca nel comparto visivo e nel gameplay. Il suo overall che è stato dato dalla redazione di Serial Gamer Italia è 8.7. Horizon Zero Dawn ha moltissimi punti di forza e molti videogiocatori lo hanno apprezzato per la mappa di gioco ricca di dettagli e di scenari molto affiato. In questo piccolo extra post recensione vogliamo farvi notare la somiglianza di alcuni luoghi presenti nel suddetto gioco con spazi e terreni che fanno capolinea nel nostro mondo. I luoghi che state visionando sono sparsi per il Colorado, Utah e Arizona. In particolare stiamo facendo vedere lo Sports Authority Field, il Pioneers Museum, l'Air Force Academy e l'ampiteatro Red Rocks e molti altri ancora. Luoghi sicuramente molto piacevoli da vedere sia al di qua sia al di là della console. A volte è meglio farsi guidare dalla pura creatività mentre come in questi casi è preferibile ispirarsi alle meraviglie naturali che rappresentano la ciliegina sulla torta del nostro pianeta. Per questa video recensione con extra è tutto. Un saluto da Alessandro e dalla redazione di Serial Gamer Italia. State connessi sia al sito sia al canale Twitch e al canale YouTube per ulteriori aggiornamenti, news, recensioni, video recensioni, video e quant'altro. E ci vediamo al prossimo video ragazzi. Ciao!